Un secolo di mare e di sole. A Castel dell'Ovo la mostra Cartoline dal Bagno Elena ripropone la storia di uno dei più antichi stabilimenti balneari di Napoli situato lungo la costa di Posillipo nell'insenatura fra Palazzo Donnanna e Palazzo Guercia. Cartoline e fotografie, paesaggi e bagnanti alludono al rapporto della città col mare soffermandosi su uno dei tratti più belli del litorale cittadino che fu frequentato volentieri anche da Edoardo De Filippo e da Totò. Qua passa la storia di Napoli, più o meno con l'unità d'Italia possiamo dire, quindi si attraversano persone, ricordi, turisti, com'era Napoli, com'è e come vuole essere. Il Bagno Elena è patrimonio della città di Napoli. L'antica tradizione di stabilimenti balneari su Palafitte oggi è portata in mostra al Castel dell'Ovo e per l'occasione è stato coniato, grazie a Poste Italiane, un annullo filatelico proprio che rappresenta il lavoro dei bagnini, dei carpenteri di mare sugli stabilimenti balneari. La mostra potrà essere visitata fino al 13 giugno.